Ormai penso che sia anche un tipo di riflessione che si è consolidata abbastanza nelle visioni critiche rispetto alla crisi ecologica, nell'ecologia politica eccetera. Questa idea che se fino a un certo punto la cosiddetta natura che poi è una costruzione comunque sociale di questo sistema, di questo modo di produzione del capitalismo, però ecco se chiamiamola così la natura costruita come qualcosa di esterno rispetto alle relazioni sociali fino, mettiamola così, fino agli anni 70-80 del Novecento viene vista come un limite per l'accumulazione perché si intende la natura come qualcosa di limitato, come qualcosa che mette dei paletti all'estrazione infinita, ai processi di produzione e di consumo capitalisti, in particolare nel caso della crisi ecologica ovviamente. Oggi diciamo con la svolta chiamiamola così neoliberale per semplificare, quello che succede è che invece la crisi ecologica e il limite naturale invece di restare come qualcosa di esterno che ostacola questi processi di accumulazione viene vista invece come un nuovo spazio di accumulazione. Questo probabilmente, diciamo, questo modo di intendere la crisi climatica ed ecologica in generale probabilmente vede un po' il suo picco dagli anni 2000 fino a, direi poco tempo fa perché mi sembra che sia in declino anche questa visione, però ecco diventa un nuovo spazio di accumulazione e questo succede grazie a dei processi fondamentalmente per me in due sensi, cioè in un senso fondamentale che è quello della finanziarizzazione, quindi la creazione dei mercati di carbonio, ma anche se pensiamo per esempio a tutto il discorso delle assicurazioni contro il rischio climatico, si aprono dei nuovi spazi in cui quello che in teoria sarebbe un fattore di limite ai processi di accumulazione diventa invece uno spazio per rilanciarli. non è semplicemente, ora negli ultimi anni, penso a ragione, si sta parlando molto del tema del greenwashing, infatti per esempio appunto, per menzionare Eni, giusto perché è una realtà che probabilmente tutti e tutte conosciamo abbastanza bene, responsabile di devastazioni ambientali, di estrazioni di petrolio, in particolare diciamo in contesti neocoloniali, si vende come un'industria green, promotrice della transizione ecologica eccetera. Chiaramente, mentre vediamo che poi andando a vedere i dati, i suoi investimenti in energia tra virgolette verde, sono infimi rispetto a tutto il resto dell'industria fossile che supporta. Però ecco, dal mio punto di vista il tema del greenwashing è una cosa che sicuramente ha aiutato determinate multinazionali, attori all'interno del sistema capitalista, a mantenere una certa facciata che permette loro anche di vendersi tra virgolette sul mercato in modo migliore. Questo è anche il caso per esempio dell'industria di fast fashion e di come poi creando la linea sostenibile, la linea socialmente attenta eccetera, si accaparrano delle fette di mercato che altrimenti probabilmente non le guarderebbero. Però quello che secondo me è molto più rilevante nel contesto dell'analisi di come il capitalismo risponde alla crisi ecologica è proprio una vera e propria ristrutturazione dell'economia che in qualche modo cerca di cavalcare la crisi ecologica e cerca di cavalcarla nel momento in cui la crisi ecologica in teoria, anche seguendo un po' la definizione che dà Jason Moore per esempio della cosa, dovrebbe essere una fonte tra virgolette di valore negativo, cioè del fatto che il, non lo so per dire, il cambiamento climatico porta delle condizioni estreme o comunque inusitate in un determinato spazio geografico e va a limitare dei processi di produzione di cibo industriale e quindi anche i profitti che ne derivano eccetera eccetera. Un'altra parte molto importante, sicuramente importante che però dal mio punto di vista ha dei grossi limiti, è quello dell'innovazione tecnologica o sociotecnica anche, di come attraverso tecnologie che vengono messe in campo per rispondere alle sfide della crisi climatica che possono essere la bioingegneria, il tema di cui mi sto occupando un po' in questo momento, la produzione di carne sintetica per evitare tutto il tema degli allevamenti intensivi eccetera eccetera. Ecco, questi vengono proposti come delle forme di risposta alla crisi climatica che ci permettono di continuare a vivere così come stiamo vivendo senza cambiare le nostre pratiche perché arrivano queste innovazioni tecnologiche e allo stesso tempo sono delle innovazioni tecnologiche che permettono di rilanciare l'accumulazione. Però io in questo vedo un problema, cioè diciamo due problemi abbastanza grossi. Allora, da un lato il fatto che l'innovazione in realtà nonostante la sua promessa, nonostante tutte le sue promesse quindi di riuscire a portare benessere, mantenere determinati stili di vita e anche portare sostenibilità ambientale, sta fallendo su tutti i fronti e spesso addirittura non porta neanche effettivamente degli aumenti per esempio di produttività. Quindi di fatto non riesce a rispondere a quel famoso problema del valore negativo nel contesto della crisi climatica. E dall'altra parte il tema della finanziarizzazione chiaramente permette un'estrazione di valore dalla crisi climatica e quindi dei processi di accumulazione, una creazione di profitto molto veloci, che però, che tuttavia richiedono una intensificazione estrema di processi estrattivi che già sono alla base della crisi e allo stesso tempo, essendo slegati dall'economia ma, chiamiamola così, reale, non creano neanche quelle condizioni di capacità di promessa che poi un po' è stata la base, penso per decenni, del consenso che si è creato attorno alle comunque diseguaglianze che hanno caratterizzato le relazioni capitaliste fin da sempre, di promessa di miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. Quindi fondamentalmente quello che in questo momento nel contesto della crisi climatica si sta delineando è anche una crisi sociale in cui ci sia una biforcazione sempre più estrema tra pochi, chiamiamoli così, ricchi e poi tutte delle popolazioni precariezzate e, come già detto, questa cosa è poi ulteriormente stratificata secondo altri assi di dominio. Per cui, diciamo, quello che a me sembra che si si sta delineando anche politicamente e in questo, secondo me, la risposta delle destre non è così incoerente con questo quadro, anche se invece in questo caso è negazionista. Cioè, mentre abbiamo un capitale che dice sì, la crisi ecologica c'è, però noi la risolveremo, eccetera, eccetera, o comunque vi diamo gli strumenti per farlo. La destra è negazionista, nega, però allo stesso tempo mette in campo degli strumenti politici e istituzionali che mi sembrano completamente in linea con gli obiettivi e, diciamo, con le crisi che si vanno delineando. Quindi, se da un lato ci troviamo di fronte a una condizione di crescente precarizzazione all'interno di un contesto di crisi totale, cioè quello che aumenta è semplicemente la violenza sistemica il controllo di quella che possiamo chiamare macchina stato capitale che semplicemente mantiene questo ordine e anche la svalorizzazione della vita e del lavoro e quindi supportando i processi di accumulazione, non creando un consenso, non promettendo o anche dando in parte uno stile di vita, quantomeno per quanto riguarda i paesi ricchi, accettabile per gran parte della popolazione, ma semplicemente per via della violenza, della forza e quindi del mantenimento dello status quo. Il contesto delle politiche di destra all'interno di questa ristrutturazione mi sembra anche abbastanza coerente nonostante tutto. finisco, scusate, sono andata lunga, a livello di istituzioni, se vogliamo per esempio l'Unione Europea e istituzioni sovranazionali, chiaramente non c'è negazionismo, c'è anche l'idea di portare delle politiche che hanno a che vedere con la transizione, quindi di investimenti che vengono investimenti pubblici, che dovrebbero supportare una transizione, però questo è stato, pare che il caso del post-covid sia stato estremamente, abbia evidenziato in modo estremamente chiaro la logica di tutto questo processo, che è che va bene investire finché c'è da rilanciare dei processi di accumulazione, ma tuttavia tutte queste preoccupazioni passano in secondo piano nel momento in cui probabilmente ci si rende anche conto che effettivamente questa non è una via fattibile di accumulazione e si passa alla guerra, cioè nel senso siamo e abbiamo abbandonato completamente, diciamocelo, cioè siamo in guerra, siamo probabilmente in quella che possiamo anche vedere come la terza guerra mondiale, evidentemente il problema del climatico a livello istituzionale non esiste più, perché è anche un tema di cui si discute molto poco, ma l'impatto a livello di emissioni, a livello ecologico, che tutto l'apparato militare ha è spropositato, senza calcolare che comunque tutta questa guerra si gioca anche su un accapparamento di risorse che poi sono fossili. Per cui ecco, rispetto per esempio a delle proposte come il Green New Deal, delle proposte che erano state fatte proprio nell'ottica di risposta alla crisi Covid, mi dà l'idea che siano delle risposte in cui poi magari noi possiamo anche credere poco, ma al di là di quello che fondamentalmente stiano semplicemente cadendo nel dimenticatoio di fronte ai problemi del capitale fossile e dell'accapparamento appunto di risorse, forza lavoro a basso costo da parte dei grandi poteri a livello geopolitico. Sul piano globale le risposte delle istituzioni hanno gli strumenti diciamo così più forti in questo momento nel piano fatto approvare da Biden negli Stati Uniti, nel piano approvato all'ultimo congresso del Partito Comunista cinese, la Cina è il paese oggi che investe di più sulle nuove energie, chiamiamole così, è anche quello che inquina di più al presente, non storicamente, la maggior parte di quei 420 e qualcosa parti per milione di CO2 che sono in atmosfera e del 1800 parti per miliardo di metano che sta da sopra e il resto dei gas serra presenti, compreso il vapore acqua in atmosfera, sono stati emessi accumulandosi nel tempo dai paesi occidentali tuttora per quanti sforzi abbia fatto la Cina negli ultimi decenni. Al presente è quello che inquina di più ma storicamente o meglio l'aumento generale di gas serra dipende dalle produzioni occidentali, chiamiamole per capirci così, ma è anche il paese che investe di più sulle alternative, la Cina, contemporaneamente in questo momento. E poi c'è il piano dell'Unione Europea di cui si discute da tempo, che è anche entrato nel vivo e sono tutti i piani, mettendo in particolare a fuoco quello americano e quello statunitense e quello europeo, per provare a mitigare l'impatto di ciò che bisogna fare per avviare la transizione, registrando che la transizione è comunque necessaria e giocandola, giocando nei tempi sui tavoli di concertazione che ci sono tra una COP e l'altra, per esempio, non è che tra una conferenza sul clima e l'altra non si fa nulla, ci sono tavoli in cui in modo efferato si discute, coltello tra i denti, pistola sul tavolo, tra i vari portatori di interessi. E anche nell'Unione Europea c'è questo, pensiamo allo scontro che c'è stato sulla tassonomia, cioè sulle attività riconoscibili come degne di essere considerate utili alla transizione, e tutto lo scontro che c'è stato sul considerare tale, per esempio, il nucleare, e così via. Quindi in quei tavoli si discute di continuo tutti i giorni tra portatori di interesse, tra esponenti delle varie istituzioni, molto raramente movimenti o forze che comunque rappresentino il punto di vista di chi patisce c'è la crisi climatica e ambientale, ancora meno per quanto riguarda esponenti dei paesi del sud del mondo, ovviamente, anzi, non ovviamente per noi che sappiamo come funzionano le cose, ma è chiaramente un'aberrazione questa esclusione a monte. Per fortuna anche in quei paesi molti movimenti stanno, come dire, decolonizzando l'approccio ecologista e anche climatico e provano a rimettere altre priorità al centro dell'azione green, renderla meno compatibile con le varie forme di greenwashing, appunto, di nazionismo, eccetera. Quindi succedono molte cose in realtà nelle istituzioni, proprio perché anche quelli che, alcuni sono proprio degli idioti, ma anche molti di quelli o che negano o che frenano, sanno benissimo qual è la situazione, qual è la gravità, no? E quindi agli altri la vendono in un certo modo, ma cercano di gestirne i dati essenziali in modo da profittarne il più possibile, ma sanno benissimo com'è la cosa. E il grande business è quello, appunto, di finanziare la transizione in modo da specularne. Hanno speculato creando la crisi e adesso vorrebbero speculare per uscirne, no? E' lì il punto in cui lo spazio dell'iniziativa politica sia quella più tradizionale delle forze politiche, delle stesse istituzioni meno corrive, diciamo così, no? E dei movimenti, soprattutto, può aprirsi. E' lì che occorre inserirsi e, come dire, introdurre delle variabili che non siano quelle, le uniche presenti a quei tavoli, no? Questo è più facile, ovviamente, a livello locale, ma è anche opportuno spesso a livello locale perché, per esempio, il PNRR adesso, come dire, prende terra nelle varie città, no? Il PNRR italiano è una grande occasione perduta. Un pezzo di quella montagna di finanziamenti va nella direzione giusta, un pezzo. Avrebbe dovuto andarci tutta, no? Ma, ovviamente, la mangiatoia in cui si è trasformata ha fatto sì che le lobby, i lobbisti, appunto, ci abbiano giocato, no? Il vecchio metodo clientelistico italiano abbia premiato le istanze dei vari ras locali, no? Scendendo per gli rami delle gerarchie politiche, no? E poi, nelle città, i territori, come dire, sono intervenuti, no? I compagni dei compagni veneziani sanno che fine ha fatto qua l'arrivo, no? Straordinario di fondi dal PNRR, no? Che, invece di fare quello che avrebbe dovuto fare, no? Finanziare le bonifiche dei terreni inquinati, la rigenerazione edilizia architettonica delle abitazioni e il loro efficientamento energetico, la transizione energetica applicata ai trasporti, appunto, all'abitare, no? Alla città come macchina nel suo insieme, no? Alla trasformazione anche del modo di distribuire l'energia, perché la transizione implica anche passare da un modello centralizzato di distribuzione dell'energia a un modello decentrato, non solo di distribuzione, ma in particolare di produzione, no? Con le comunità energetiche, tutte cose che sono fattibilissime, proprio per il ragionamento fatto prima che gli strumenti della scienza e della tecnologia ce lo consentono, no? È eventualmente la politica, le condizioni istituzionali e politiche che lo impediscono, ma oggi sarebbe perfettamente possibile passare da un modello centralizzato di distribuzione e produzione dell'energia a un modello decentrato di produzione e di gestione e distribuzione dell'energia. E, per esempio, questa era un'occasione utilizzare questi fondi anche in questa chiave, per creare intanto delle prime comunità energetiche e non sostenerle, come si sa qui, ma non diversamente anche in altre città, no? Sono utilizzati questi fondi straordinari per fare altro. L'altro qua è un palasporto, è uno stadio, no? Con ulteriore consumo di suolo e tutto il resto, ma al di là di questo, per fare due cose, che non sono due centrali nucleari naturalmente, ma sono due cose che non c'entrano niente con tutto il resto, no? Per cambiare il volto di un territorio, per cambiare il volto di una città. Non solo, li hai anche persi i soldi che hai chiesto per quello, però li hai persi due volte, no? Perché li hai chiesti e non te li hanno dati. Se li chiedevi per le bonifiche, la rigenerazione urbana te li davano, no? Per averli lo stesso, li chiedi a Roma invece che a Bruxelles, a Roma, siccome sei ammanicato, te li danno, però non te li daranno più per rifinanziare la legge speciale, per le bonifiche, o te ne daranno molti di meno, no? Quindi dai persi tre volte in questo caso, per fare una cosa, nel migliore dei casi, superflua, no? Ma molto probabilmente nociva, perché è ulteriore consumo di suolo e altre cose. E così in Italia si è fatto in gran parte. Perché questa è la mentalità, la cultura politica istituzionale media, piuttosto trasversale, eh? Piuttosto trasversale, certo. Un'aggiunta di destra è mediamente peggiore su questo terreno di un'aggiunta di centro-sinistra, ma sono abbastanza accomunate su alcune cose dalla stessa logica. In particolare quando entri nel terreno delle grandi opere, perché quella roba lì è proprio trasversale, no? Quindi il tema è bisogna irrompere in questi ambiti, in qualche modo, o dall'esterno, o dall'interno, o attraversandoli, perché è lì, in questo barco che si è creato oggi, tra la transizione possibile e quello che comunque si fa in maniera distorta, no? Che ci si può inserire. E lì è il ruolo, lo spazio dei movimenti, è lo spazio dei ricercatori, è lo spazio della discussione anche culturale, per, tornando al discorso di prima per un attimo, chiarire davvero le basi, di cosa stiamo parlando, no? e dei dati consolidati, no? E soprattutto del percorso possibile che abbiamo di fronte. Non abbiamo di fronte la conversione ecologica immediata. Come uno si converte, diventa credente o viceversa, no? E tutte quelle belle cose che succedono quando uno cambia status improvvisamente, no? E non funziona così, no? Cioè è l'auspicio di Papa Francesco, ne ha laudato sì, ma lui fa il suo mestiere, no? Dice convertitevi, no? E speriamo che... Ma non succede così, no? Siamo piuttosto in una transizione conflittuale, no? Non è la conversione ecologica dall'oggi al domani, no? Sarebbe bello, ma non è così, no? Non capita, perché non capita, ma non capita proprio, no? E quindi succede che è possibile invece una transizione conflittuale. Dentro lì il ruolo dei movimenti, il ruolo delle forze che sanno cosa sta succedendo e soprattutto che se ne può uscire è fondamentale. Però bisogna premere e insistere e non lasciare che quei tavoli nel segreto delle riunioni e delle trattative tra lobby siano tutto quello che decide niente po' di meno che del destino di un pianeta intero.